luana il periodo natalizio si sta avvicinando che novità avete abbiamo proposto quest'anno gli agrumi in vaso e abbiamo molte varietà particolari e soprattutto in omaggio è un libricino per bambini che è intitolato livia e il giardino dei piccoli agrumi diciamo un regalo interessante sia per educare il bambino che l'adulto mantenere piante che poi ci donano i loro frutti gli agrumi da dove provengono gli agrumi provengono dalla sicilia e oltre ad avere varietà diverse di limoni tipo il limone meyer il limone lunario il limone carruba abbiamo anche varietà di agrumi particolari come il lime quatt oppure il limone caviale molto pregiato utilizzato tantissimo dagli chef voi dedicate sempre uno spazio ai bambini sì noi dedichiamo molta attenzione ai bambini perché il natale sia degli adulti ma soprattutto dei bambini e abbiamo allestito la slitta di babbo natale nell'ingresso poi il piccolo villaggio nell'atrio del garden per arrivare all'immagine di alice nel paese delle meraviglie con i funghi giganti e abbiamo anche una casetta di pan di zenzero negli allestimenti questo per poter fare delle foto sia i bambini che con i genitori e poi anche quest'anno abbiamo dedicato una giornata particolare regalando un alberino a tutti i bimbi quali sono i colori di tendenza di quest'anno l'anno 2023 ci ha riservato un colore molto particolare perché si tratta del lilla quindi un colore da abbinare o al bianco o al rosso per essere ancora più di tendenza il un colore che fa proprio la novità di quest'anno tra le sue mani un adobbo particolare che cos'è nella nostra ricerca del natale classico dedichiamo molta attenzione a queste sfere che sono molto particolari le abbiamo di diverse misure e sono sfere in vetro dipinte a mano con paesaggi e soggetti natalizi e tra le idee regalo non poteva mancare la tradizionale stella di natale le stelle di natale logicamente sono le piante che abbiamo in maggioranza in questo periodo le proponiamo di tante tipologie tra le quali abbiamo la princettia che una di queste è di colore rosa esistono anche bianche rosse sfumate variegate di tutte le misure dimensioni sia di vasetto micro proprio da 5,5 fino ad arrivare a degli alberelli delle ciotole poi riusciamo a fare delle bellissime composizioni a proporre ai nostri clienti per un ottimo regalo natalizio da dove proviene le stelle di natale ovvero euforbia pulcherrima proviene dal messico dal guatemala e logicamente non possono mancare nelle nostre abitazioni sotto le feste natalizie